Questa umanità che arriva da tutto il mondo è un'umanità che nella pratica mette in essere un tipo di economia diversa. Siamo stanchi che tutto il sistema economico sia a beneficio di poti. Siate orgogliosi dei vostri prodotti a casa vostra, mangiare locale, difendere l'economia locale. Difendete i vostri contadini, difendete i vostri produttori.